Buongiorno a tutti e bentornati a un altro episodio di Fisicamente Aula Studio. Oggi con voi vorrei commentare questo video che è stato caricato in data 1 luglio sul sito Astronomy Picture of the Day, in cui si vede praticamente un video fatto con una telecamera che è stata piantata su un trepiedi, però non è stata lasciata lì ferma sul trepiedi a guardare il cielo. Su questo trepiedi è stato montato un piccolo motorino che faceva anche girare questa telecamera. La telecamera nella fattispecie è in questo momento in Namibia, che è uno stato africano poco sopra il Sudafrica, si trova ad una latitudine di meno 20, quindi è sotto l'equatore, di poco sotto, perché è solo 20 gradi di latitudine al di sotto dell'equatore, e la zona di cielo che questa telecamera sta puntando è l'equivalente del nostro polo nord, quindi sta puntando in quello che è il polo sud, che è visibile appunto dall'emisfero australe, quindi da tutte le zone della Terra al di sotto dell'equatore. A che velocità sta ruotando questo motorino? Il motorino sta ruotando ad una velocità tale per cui in 24 ore la telecamera ha fatto un giro completo. Adesso io faccio play e andiamo a vedere quello che si vede. Ovviamente, dato che la telecamera che sta girando, si vede anche l'orizzonte della superficie del terreno, si vede che sta girando, però la cosa più importante è che quando diventa scuro, quindi quando il sole è tramontato, a quel punto si iniziano a vedere le stelle e queste stelle rimangono ferme, fisse in cielo. Adesso rivediamo il secondo giorno che questa telecamera ha registrato. Ecco, vediamo esattamente le stelle fisse in determinati punti, che sono appunto le posizioni delle stelle, e si vede anche la via Lattea, e la cosa magari importante da notare è che al centro di questo fotogramma, proprio nel centro qua, questo è l'equivalente del polo sud celeste, come quello che per noi è la stella polare, a sud, nell'emisfero sud non esiste una stellina facile da vedere che rappresenta proprio il polo sud, però qui esattamente dove c'è il mouse adesso, questo è il polo sud celeste, e quello che vediamo, magari lo rimettiamo anche da capo questo video, è che questo è esattamente il punto in cui tutto rimane fermo, e a questo punto cosa possiamo vedere? Beh, questa è la dimostrazione, una delle dimostrazioni più lampanti, che appunto è la Terra a ruotare, e se noi con la telecamera la facciamo ruotare esattamente per compensare il movimento di rotazione della Terra, allora noi stiamo vedendo il cielo notturno come se fossimo al di fuori della Terra, in un qualsiasi punto fermo nel nostro universo. La Terra a questo punto, o meglio, l'orizzonte, sembra che stia ruotando, è semplicemente un effetto ottico, però questa appunto è una bellissima composizione di immagini, anzi, è una compressione in pochissimo tempo di un video che è durato 48 ore, quindi due giorni, si vede come detto la Via Lattea, si vedono anche le nubi di Magellano, e via dicendo, e nulla, per tutti i terrapettisti all'ascolto, magari voi ve lo siete persi, però non solo la Terra effettivamente è sferica e gira su se stessa, gira su se stessa anche in 24 ore, perché appunto mettendo insieme le tempistiche, queste sono proprio, tra un mezzogiorno e il mezzogiorno successivo sono 24 ore, questa è la prova provata che rispetto alle stelle fisse, la Terra ruota intorno a se stessa in 24 ore. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante da dire, ma sì, no, nulla che, se noi vediamo la posizione del Polo Sud Celeste rispetto al punto più vicino dell'orizzonte che ruota, questa distanza in gradi sono esattamente 22 gradi. Perché 22 gradi? Perché il valore della latitudine della Namibia da cui è stato fatto questo video. Se fossimo più vicini all'equatore, vedremo che il Polo Sud Celeste sarebbe molto più vicino all'orizzonte, se fossimo invece esattamente al Polo Sud, allora avremo che il nostro Polo Sud Celeste sarebbe sopra di noi, ad una distanza di 90 gradi dall'orizzonte. che è la stessa identica cosa che possiamo vedere anche nell'emisfero Nord, ovviamente, semplicemente, vedremo le costellazioni tipiche del Polo Nord Celeste, quindi l'orsa maggiore, l'orsa minore, la stella polare, sarebbe proprio la stellina ferma al centro, dove c'è il Polo Nord Celeste. Benissimo, questo era quello che vi volevo raccontare per quanto riguarda questo bellissimo video. video che, ovviamente, è stato fatto in due giorni, però dopo, per dargli una durata di 42 secondi, è stato compresso al massimo. Se fosse stato esattamente 48 secondi, avremmo che ogni ora di video girato sarebbe un secondo di video che andiamo a vedere qua, quindi più o meno questo è il rapporto di compressione, diciamo. Ogni secondo di questo video equivale a un'ora di vita reale. Ah, una cosa molto molto bella, guardate l'ombra, guardate l'ombra di questo tubo metallico su questa casetta, si può immaginare come se fosse il sole una sorgente fissa di luce, ed è la Terra che gira, ed è per questo che l'ombra va a girare, guardate che bello questo effetto, l'ombra è sempre verso il basso. È bellissima questa cosa. Benissimo, scusate l'entusiasmo, però questo era quello che vi volevo raccontare. Se avete domande, come sempre, lasciatemi un commento e ci vediamo al prossimo video.